All'improvviso mi trovai annanza a finestra a monogrellimo. Vavatten! Uffa! Salvatore, rispetta la famiglia! Non vuoi capire? Non mi devi chiamare, Salvatore! Io sono donna! Continua a difendere il tuo figlio, lui e le sue schifo di amicizie! Chi c'è là? Sei della femmina e non so mai della femmina, io non so né carne né pesce. E che sei? Che so? Una bugia. Sei ancora sognando che uscivi di casa col velo da sposa, il buco è in mano? E quanti figli li facevi? Quattro, cinque? Chi le nuova vestite? Io ti amo. Non si è. Quanto è bene! Alle otto del mattino, già state così! Non bere quell'acqua! Ti stanno invisibili i pesci tropicali maledetti dentro! Muore subito! Mi devi aiutare. Solo tu lo puoi fare. Posso fare qualche cosa per te? Voglio godere! Voglio un uomo! Ti faccio venire i brividi per le carni! E ci ritroviamo in l'alto mare. Questo per fare rimallevamento, agricoltura biologica, specialità. E non significa niente. Tu per la psicologia ufficiale sei una criptochecca. Una criptochecca? Una criptochecca. Piuttosto che tornare giù, perché il signor si vola più. Joe! 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 Grazie a tutti.